bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi porca di quella porca oggi vi ho già caricato tre video ma ragazzi questo non potete proprio perdervelo ragazzi stiamo come vedete in una posizione abbigua aspetta un attimo con il nostro pietro ragazzi ma io non volevo farvi vedere pietro raga volevo fare a parte che è meravigliosa questa immagine è veramente troppo troppo bella ragazzi volevo farvi vedere ragazzi che cosa è apparso nel update 4.3 ragazzi la cometa ragazzi la cometa è di nuovo modificata ragazzi guarda guarda l'hai visto aspetta che potrò vedere bene guarda raga nella cometa c'è qualcosa raga nella cometa c'è qualcosa di stranissimo c'è dentro probabilmente un pezzo di navicella spaziale questa è palesemente ragazzi una navicella spaziale l'avevamo già visto nella cometa doveva esserci dentro c'è dentro in realtà un leviatano ragazzi senza la skin veniva detto nelle e nelle nei leaks che sono stati rilasciati beh oggi è veramente non è una cometa ragazzi è un nuovo è veramente tutto molto più chiaro ragazzi questa è una navicella spaziale ragazzi guardate che roba guardate che roba dentro questa cometa incredibile possiamo continuare a zoomare raga di qua si vede bene questa era l'immagine che avevamo visto anche l'altro giorno intanto vi chiedo scusa un secondo fatemi momentaneamente fatemi un attimo ragazzi aprire gimp perché mi salvo intanto mentre voi vedete il video le mie i miei tutte le mie cose che mi servono ma questo sta veramente a confermare che c'è qualcosa dentro questo uovo ragazzi si vede anche di qua la si vede benissimo possiamo di nuovo spostarci ragazzi incredibile incredibile ogni guarda quando ci possiamo andare dentro va che roba ogni settimana che poi guarda oh mio dio oh mio dio raga guarda come si vede così no no ma così si vede di brutto raga così si vede di brutto no aspetta un attimo aspetta aspetta una no vabbè stai male stai male ragazzi stai male così si vede di brutto è una navicella raga è una navicella e si vede benissimo è la navicella è la navicetta sono io questo ma perché sono io aspetta sono io come dio è una navicella ragazzi vede benissimo si vede benissimo andando dentro ragazzi guardate che roba guardate che roba un mio dio da qua ragazzi riuscirà sicuramente qualche cosa che ancora non sappiamo potrebbe essere qualsiasi vabbè vabbè ma beccatela così vabbè ma guarda guarda che storia guarda che storia meravigliosa meravigliosa ragazzi meravigliosa questo è veramente un mega mega update che ci lascia tutti a bocca aperta beh ragazzi io direi che con questo video a fa voglio proprio fare il boom vi ricordo a tutti di iscrivervi al canale di lasciare un bel like e di condividerlo con tutti i vostri amici ragazzi nella meteora c'è una navicella spaziale noi ci teniamo presto aggiornati con altri aggiornamenti e ci vediamo ovviamente in live ciao a